Prometete, prometete, qui non ne possiamo più! Voi dovete capire che la teniamo negli occhi quella notte noi! Quando tu sei andato all'estero eri più giovane di me, ma perché non posso provare pure io? Perché tu sei femmina! Quanto sei bella, Marie! Mi cantiterò, era anche un sogno di papà. Guarda che migliori all'estero non è la soluzione ideale per tutti. Lily, dove sei? Lily! Non essere così severo con il bambino. Non sei tu quello che puoi insegnarmi come sei tu con figli. Qualsiasi cosa deciderai di fare io sarò con te. Che stai dicendo papà? Mi ho perso mio padre qua, vedevo solo a lui, ma non tengo più niente. Non potevi fare a tuo padre un regalo più bello per il suo compleanno. Ma che cosa stai facendo? Aiutatemi a scavare! Devo trovare Lucia! Lucia! Io sono stanco di questo posto, Marie. Tanto qui le cose non cambieranno mai. Hanno lottato per anni e la loro forza di lottare insieme è stato l'esempio per tutti noi. Sì, ma sono passati dieci anni dal terremoto e ancora non è successo niente. Se le cose non ce le facciamo da soli, in questo paese non andrà assolutamente avanti nulla. Mamma, dove sei? Mamma! Mamma, dove sei? Mamma, dove sei?